Si va verso le elezioni del comprensorio, abbiamo già presentato con un paio di servizi, o meglio più che altro, con due trasmissioni, quelle che sono i candidati a sindaco di Trappeto e Balestrate, questa settimana presenteremo il giardinello perché domenica prossima voglio ricordare che si vota. A Partenico non è che si vota ora, si vota fra ottobre e novembre e intanto il problema è che più si va avanti più ho modo di vedere che i vecchi dinosauri della politica di Partenico, cioè la paleontologia, cercano di rimettersi di nuovo in moto perché forse venendo veramente, chiedevo che fanno i picciutetti, eravamo meglio noi altri che chissene nove, ma il conto viene fatto in questa maniera. Perché vedete, vediamo i nomi di ufficiale, c'è solo Pietro Rao, che è candidato, ormai è sempre candidato, Pietro Rao è candidato. Di ufficioso vi posso dare il nome di Pino Magnaici che continuano, ora così diventa sempre più ufficioso. Perché? Perché guarda caso abbiamo avuto modo di sapere che c'è, per esempio, per portarvi un esempio, ora vedete sicuramente voi non riuscite a vederlo, ma chi è dietro la telecamera appena parò il nome, quasi quasi, si mette a rire perché non ci crede. Vito Di Marco è di nuovo candidato, ecco, già rire, perché uno dice, ma dave quasi, sì, Vito Di Marco si sente nelle condizioni, nel giovanotto per potersi candidare con un pugno di amici, con un pugno di vecchia squadra e poter cercare di rimettere piede all'interno del comune di Partinico. Ma c'è di peggio. Vedete, nessuno oggi, ancora oggi, ha fatto il conto come noi ci troviamo in un distesto economico con 30 milioni di debito, 40 milioni di debito, dopo, chiedo chi c'è il doverino, tutti capisci, che abbiamo dovuto ripare addirittura, cioè il danno, perché è stato dichiarato il distesto economico da De Luca, ma ovviamente veniva di lontano, si poteva cercare di evitare, ma non si è evitato, ma i debiti c'erano, i conti erano già, salvo l'obbiondo, che una volta che non si può candidare un suo amico perché ci sono dei problemi, si ricandida, salvo l'obbiondo, ma è stato abbandonato, cioè chi lo portò il comune di Partinico al distesto economico, se parlate con lui, è chi lo capisce per 10 anni o meglio sindaco, e tra le altre cose, con l'altro aggrappante, comune De Luca, che poi lo abbandonò, Pichini sa candidare al regionale per cercare di fare il salto superiore di qualità che ha restato Pavia. e ne fermiamo qua? No, qua ne è qua, manco ci ha cominciato, pensate che c'è la Costituente, e la Costituente sapete anche generalmente da chi è stata messa in moto, e in quella Costituente là ci potrebbero essere i giovani rampanti, i giovani figli lì, da Rinta ci possono essere la società civile, da Rinta c'è, ne fanno parte, Totecometo, Albiolo, Aiello, Di Trapani, Giuseppino Di Trapani, eccetera, eccetera, non scordiamo, c'è un altro di Trapani, stiamo attento, chi dove lo si chiama Renzo? E Renzo Di Trapani invece è pronto e progressista, perché appartenì qua, non si parla a chi è di centro-sinistra, ma di fronte progressista, e il fronte progressista, che nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere che appartenì col raccoglie sì e no il 10% di Paitele Cote, da Rinta ci sono 10 candidati, uno per ogni per cento, un per cento o uno, un per uno o uno, e i 10 candidati del centro progressista sul Renzo Di Trapani, potrebbero essere Gaspar Anselmo, poi c'è Dionno, c'è Calogero Barretta, del fronte progressista ovviamente fa parte Gaetano Costanzo, sempre alla ricerca di qualcuno che lo candida, del fronte progressista possiamo se volete continuare all'infinito e ci sono 10 candidati, e da Rinta c'è cristiani che on, due, articolo uno, uno, c'è cristiani che vanno per quello che uno, capito? Per cento. E allora non abbiamo finito qua, perché vedete c'è Vito Giovia, che ancora non è che ha detto che si ritira, e che ovviamente candidato della nuova democrazia cristiana di Totò Cuffaro, ancora oggi un passo indietro non l'ha fatto, e che ovviamente dice di essere disponibile e di essere candidato. C'è qualcuno che mette sempre in omenso, potrebbe essere un nome spendibile, non sappiamo se sul fronte progressista o sul fronte del centro-destra, che è sempre l'Avvocato Causarano, oppure per esempio, per chiudere, ma anche oggi chiudo qua perché se continuiamo vi mettete a ridere, adesso noi abbiamo l'ex, credo che sia stato anche il vice sindaco, Mauro Lobaito, che è passato al fronte del centro-sinistra, è passato con calenda, e calenda è calenda, uno potrebbe mettere in calendario che Mauro Lobaito potrebbe essere anche uno dei candidati, non si sa per quale centro, di quale destra, di quale sinistra, di quale lista civica, ma questi sono. E allora io la domanda la faccio a voi, questi sono i candidati di Partenico. Lanciamo un sondaggio e vediamo Cusunno che eventualmente potrebbe romplare se Dio Corintia e andare a guidare il paese di Partenico con necessità di presenza 24 ore su 24, si dice H24, vediamo chi? A mio parere di tutti, manco uno. Grazie a tutti.